Bentornati fratelli di tuberanza in un nuovo episodio su Brawl Stars Prima di cominciare lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video Cosa faremo oggi? Andremo ad aprire 196 casse e nel momento in cui trovo, se lo trovo, un nuovo brawler Il video finisce, ma non è che finisce e io ho tempo di salutarvi Finisce all'istante, come esce un nuovo brawler? Boom, il video si stacca, che siano 2 minuti, 3 minuti È una specie di challenge che voglio provare qui su Brawl Stars Lo troveremo? Ne dubito Quanto durerà questo video? Non lo so, lo scopriremo tra pochissimo Mucco è minimo, boom, seconda cassa, nuovo brawler, addio Proviamo raga, 15 monete, Carl Piper, va bene 50 monete, molto buono Anche perché raga, io queste casse prima o poi dovevo aprirle Perché aprirle da solo quando posso aprirle con i miei ragazzi? Punto di domanda Porta che potrei aprirle pure velocemente, tipo così Però così non vedete praticamente niente di quello che trovo, quindi è un po' brutto Oh, comunque per 3 casse di filo ho trovato 50 monete C'è soltante Toto tipo adesso ne ho trovate 30 Buono Ma può uscire un brawler da queste casse qui? Che voi sappiate? Non lo so, vabbè, nel caso io comunque continuo ad aprirli Poi vediamo quello che succede Va bene, vai ancora Ancora power up per Jackie, molto bene, molto Vai, vai Eugenio Nel mentre ho provato a documentarmi raga E non ho trovato notizie certe del se dentro queste casse piccole si possono trovare dei nuovi brawler Sicuramente qualcosa si può trovare È da capire se è vero oppure no quello che ho letto Vediamo Vediamo, andiamo avanti In teoria con 200 casse qualcosa dovrei trovare Ecco, bonus rimasti Ah, ok, ho trovato soltanto il bonus Vabbè Io per un attimo ci ho creduto E invece sono stato fregato Lo troviamo ragazzi, lo troviamo Qualcosa devo trovarlo Per forza Lo troveremo Non vi preoccupate Dobbiamo solo andare più veloci Perché se no sto video dura 18.000 anni Vai, 8 bit Ok Dammi qualcosa Da bravo Non essere cattivo con me, giochino Che t'ho dato tanti soldini Per favore Sii buono Ah, ok, posso già livellare di nuovo Jackie E lo faccio subito Perché è giusto che lo faccio Anche perché è fortissima L'ho già detto già nello scorso episodio Vai, ancora Vado velocissimo raga Vado velocissimo Cercando appunto di trovare qualcosa di buono Vai Piper, ok Dai, 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 dai 50 monete Molto buono Molto, molto, molto Ancora power up per Jackie Apprezzo Moltissimo Ancora di nuovo Jackie Bravo Carl Non mi fa impazzire Carlo come personaggio Ma qualcosa troveremo, dai Raga, è impossibile non trovare niente Qualcosa si trova Sto sicuro Per forza proprio Vuoi che in 200 casse non esca niente Ma dai Sono sicuro di sì I gadget escono Dalle casse piccole Se non ricordo male Sì perché nello scorso episodio Mi sa che abbiamo trovato un gadget Nella cassa piccola Non vorrei dire cavolate E non vorrei che magari la memoria Mi tradisca Ma secondo me sì Secondo me L'abbiamo trovato Abbiamo trovato il gadget Qui se si trovano i gadget Che bene o male Sono abbastanza rari Io deduco che Per esempio Il pinguino Possiamo trovarlo Fatemi capire Rimarrà un mistero Se in queste casse Si può trovare qualcosa di buono Oppure no Ancora level up per Jackie Vai Mamma mia La voglio portare a livelli stratosferici Porca miseria La adoro Oh siamo quasi a 400 gemme Attenzione Dai Dammi qualcosa Dai E su Perché Fai il bravo giochino Dammi Droppami qualcosa di interessante Un gadget No 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 Grazie a tutti.